Il GELSO CENTENARIO Mentre sua moglie Sina lo aspetta con una cesta di panni in testa. È il ritratto degli ultimi custodi della Torre sul Porto. Due persone di cuore, generose con tutti. La Torre sul Porto è una rara testimonianza storica. Fu costruita come fortino antisbarco. Venne utilizzata come rimessa per le barche. E nel 1900 venne trasformata in casa colonica. Alla sua base c'è il Giardino della Liquirizia, pianta spontanea della Sentina. In quest'area sono stati reintrodotti il limonio e la testugine palustra europea. Qui trovi due altane per il birdwatching, dove fare incredibili avvistamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti.